Si è vista una cremonese pimpante per la prima mezz'ora in cui abbiamo imposto il nostro ritmo, soprattutto con queste investigazioni improvvise sia su Marchi ma soprattutto su Kirilov, che sono state molto importanti e hanno messo in difficoltà la squadra avversaria. Abbiamo andato in un certo ordine, abbiamo concesso poco, se non un tiro al volo su un stop di petto mi sembra del loro attaccante, il loro numero 10 credo, Calderini, ma per il resto abbiamo avuto predominanza nelle occasioni e nell'organizzazione di gioco. Poi l'episodio del rigore, i ragazzi sono piuttosto arrabbiati perché appunto il numero 10 ha portato la palla in avanti con un colpo di mano e questo poi ha fatto cambiare gli equilibri. Lo spirito è quello giusto, avete visto che il pubblico penso abbia apprezzato questo atteggiamento. A Cremona a livello di filosofia e di politica di settore giovanile, scusatemi, di prima squadra c'è stato un po' un terremoto, un cambiamento completamente di filosofia, di rotta, ci sono una squadra appunto 23 anni di media, in panchina c'è una primavera esperta praticamente, quindi questo fa capire che la tendenza è cambiata. Ma ripeto, al di là dell'età e l'atteggiamento, la professionalità, la voglia di emergere, io non avevo ancora 18 anni, mi hanno sbattuto in prima squadra, non sono più uscito, quindi se c'è l'atteggiamento giusto dei ragazzi seri, devo dire, si impegnano con grande attenzione, grande determinazione, mi seguono, è un buon piedistallo sul quale ho costruito gli atteggiamenti comportamentali, l'aggressività, l'attenzione, la partecipazione, la collaborazione, sono lo zoccolo duro sul quale poi si costruisce la squadra, il resto può venire dopo. Sì, sono molto felice, però l'importante è sempre la squadra, io credo che un gruppo di giovani come noi ha bisogno subito di entusiasmo e cominciare a perdere le amichevoli, la prima partita di Coppa diventa difficile, invece siamo stati bravi finora e anche oggi a lavorare bene, a giocare bene, quindi credo che creare un entusiasmo sia importante all'inizio. Abbiamo avuto l'occasione per poter mettere la palla sopra la difesa e l'ho messa sopra e per fortuna è nato subito il primo gol, l'importante però è sempre la squadra, dobbiamo sempre andare a vincere in ogni partita, il pubblico è stato fantastico, non ha mollato insieme a noi, è sempre stato vicino a noi e questo penso che ci porterà lontano e siamo sulla strada giusta.